Mettere in sicurezza e riaprire almeno parzialmente entro primavera la strada provinciale 56 della Val Fegana. Questo l'obiettivo della task force istituita dalla provincia che ha raggiunto un accordo con gli enti interessati. La strada provinciale è stata chiusa al transito a dicembre tra Fontanone e il passo a Giovo. Possono transitare solo i mezzi autorizzati. Il problema è quello della sicurezza. A gennaio, per fare un esempio, un grosso macigno è caduto in prossimità della sede stradale all'altezza di Margielio. Ma lungo la strada sono diverse le situazioni di potenziale pericolo. La chiusura della provinciale però ha scatenato le proteste delle strutture turistiche della zona che temono che venga compromesso l'inizio della stagione turistica a primavera. Per venire incontro alle esigenze degli albergatori, Palazzo Ducale ha stretto un accordo con l'unione dei comuni della Mediavalle e di comuni di Coreglia e Agni di Lucca per dividersi i compiti. Il primo obiettivo è terminare entro l'inizio della primavera i lavori di messa in sicurezza, in modo da ridurre il divieto di transito alla sola zona compresa tra il rifugio Casentini e il passo a Giovo. Il resto dell'accordo riguarda invece la ripartizione dei lavori di manutenzione invernale della strada e la ricerca di finanziamenti per risolvere in via definitiva tutte le criticità legate a frane, fondo stradale, vegetazione e regimazione idraulica.